5 workshop tematici con 70 partecipanti in rappresentanza delle parti sociali a discutere i documenti più concreti. Si è parlato di scuola, giovani e transizione sul mercato del lavoro, lavoratori anziani, promozione dell'occupazione femminile, categorie svantaggiate oltre ad altre tematiche e ancora 4000 visite in tre mesi sul sito web pattolavoro.it con oltre 60 proposte concrete. Prosegue quindi a pieno ritmo il percorso del piano provinciale per il lavoro che dovrebbe vedere la luce entro l'estate. Tra i temi più interessanti emersi dai tavoli di confronto la possibilità di aprire ai contratti di solidarietà tra generazioni. In questo momento di crisi e di grandi trasformazioni il nostro obiettivo fondamentale è quello di mettere in sicurezza il futuro della nostra comunità e di dare stabilità e certezze in particolare alle nuove generazioni e per questo abbiamo avviato la rielaborazione del programma pluriannale per il lavoro allo scopo di individuare misure concrete per sostenere in particolare giovani, donne e lavoratori anziani. Il nostro obiettivo è quello che nessuno deve essere lasciato da solo, nessuno può essere lasciato da solo e una delle misure più importanti emerse è appunto quello del patto generazionale, un accordo in base al quale i lavoratori che sono vicini alle pensioni possono ridurre volatoriamente un po' del loro orario lavorativo e far entrare in questo modo più giovani, maggiori energie, maggiori prospettive per il futuro. Affrontare con misure concrete e in tempi brevi i cambiamenti che complice anche la crisi economica stanno investendo il mercato del lavoro in Alto Adige. Questo è l'obiettivo della giunta provinciale che ha deciso di anticipare di un anno la stesura del nuovo piano provinciale per il lavoro la cui durata sarà di sette anni. La formazione intesa come formazione mirata alle reali esigenze del singolo sarà al centro delle nuove iniziative. La formazione continua è una misura di politica del lavoro fondamentale, quando una persona perde il lavoro deve organizzarsi attorno a lui un'offerta di servizi, però deve essere personalizzata sulle sue esigenze e sulle sue competenze. Attualmente l'offerta formativa è molto ampia ben strutturata, però molte volte c'è un'offerta forse eccessiva a catalogo, corsi standard, mentre invece dobbiamo fare uno sforzo per fare veramente corsi su misura individualizzati per le persone che perdono il lavoro. Una volta erano molto poche, ora stanno aumentando e bisogna concentrarsi su di loro. Per quanto concerne i lavoratori anziani verrà richiesto un maggior impegno alle aziende che dovrebbero adeguare le condizioni di lavoro all'età avanzata dei dipendenti. Il workshop nostro, che ho potuto moderare io, ha individuato come misura più importante la sensibilizzazione di tutta la popolazione nei confronti dei lavoratori anziani, perché sono degli annunci, per esempio, dove si cerca personale giovane, dinamico, eccetera, e qui si tratta di capire che anche i lavoratori anziani sono vitali, hanno delle conoscenze, hanno un bagaglio di esperienza che possono portare avanti e quindi qui, veramente, siccome dobbiamo lavorare fino a 70 anni di età, bisogna fare in modo che questi lavoratori possano restare nel mondo del lavoro, possano restare al lavoro e possano aumentare soprattutto la loro occupabilità. I risultati di questa prima fase di confronto verranno ulteriormente approfonditi e confluiranno nella prima bozza del piano provinciale per il lavoro, che verrà sottoposta alla Commissione Provinciale per l'impiego il 16 di maggio.